Tre vocazioni in un uomo. Preparare, discernere, lasciare crescere il Signore e diminuire se stesso. Anche è bello pensare alla vocazione del cristiano così. Un cristiano non annunzia se stesso, annuncia un altro, prepara e cammina un altro al Signore. Un cristiano deve sapere discernere, deve conoscere come discerne la verità di quello che sembra verità e non c'è. Un cristiano deve essere un uomo che sappia abbassarsi, perché il Signore cresca nel cuore e nell'anima degli altri. Grazie. 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 Grazie.